È la prima volta per rappresentare la Regione Umbria che oggi fa parte del Comitato delle Regioni. In realtà sono venuta prima anche in altre vesti a Bruxelles. Ritengo importante per una Regione come la nostra sicuramente farne parte. Il ruolo delle Regioni all'interno delle politiche dell'Unione Europea credo che sia assolutamente fondamentale. Noi rappresentiamo una Regione, tra l'altro tra le Regioni in transizione, per cui abbiamo anche delle istanze proprie dei nostri territori. Naturalmente rappresentando il cuore verde d'Italia, in qualche modo rapportato alle politiche europee, siamo perfettamente in linea con le politiche della transizione ecologica, della sostenibilità, tutte politiche che stiamo applicando all'interno della nostra Regione. L'Umbria sta andando avanti molto bene sulle risorse destinate alle infrastrutture materiali, ma naturalmente un tema fondamentale è anche quello del digitale, della banda ultralarga, che deve arrivare in tutti i nostri territori. L'Umbria è una terra che ha molti bellissimi borghi, però disseminati nel territorio, dove è possibile vivere, dove non solo è possibile fare una vacanza straordinaria, ma anche uno stile di vita, per cui sicuramente l'infrastruttura digitale è fondamentale per consentire di venire a vivere in Umbria, di investire e anche a lavorare nella nostra Regione.